Circa 2000 studenti abruzzesi sarebbero rimasti fuori dalle graduatorie delle borse di studio per le università e per i conservatori e le accademie artistiche destinate dalle aziende regionali per il diritto allo studio. Questa mattina per protestare e recuperare i fondi che arriverebbero a circa 5 milioni di euro un coordinamento di studenti da tutto Abruzzo si è riunito davanti a Palazzo dell'emiciclo, sede del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il coordinamento è formato dall'Associazione 360 gradi Chieti Pescara e dalle Udu Unioni degli studenti di Teramo e L'Aquila. Che cosa chiedete in particolare per il vostro territorio? Sicuramente la copertura di tutte le borse di studio perché abbiamo circa 1500 studenti idoni non beneficiari anche quest'anno. Dopodiché una velocizzazione anche dei versamenti ai 363 studenti che aspettano da più di un anno. Abbiamo anche gli studenti dell'anno scorso per gli scorrimenti di aprile che non hanno ancora ricevuto le loro borse di studio qui a Chieti. Noi dell'Aquila denunciamo la situazione della Campomizi che è l'unica residenza pubblica universitaria dell'Aquila e la più grande d'Abruzzo. A pieno regime ha 360 posti detto i quali dalla fine di quest'anno rischiano di scomparire del tutto proprio perché la struttura dell'esercito va restituita ma non è pronta nessuna soluzione alternativa. Di conseguenza alla fine di quest'anno accademico, il 31 luglio, se così restano le cose, se non ci sarà quello che noi chiediamo e che crediamo essere l'unica possibilità ovvero l'estensione di questo comodato d'uso gratuito per ancora qualche anno per consentire la ricostruzione della casa dello studente e la permanenza dei lavoratori che sono circa 60 e di 360 studenti dentro Campomizi. Tra le istanze portate davanti all'emiciclo, l'UDU di Teramo porta anche quella della monetizzazione delle quote vitto non usufruite durante il lockdown. Qual è la situazione? Sì esatto, durante il lockdown a Teramo le mense sono state chiuse così come in tutto il resto della regione eppure, pur essendoci una previsione di legge, le quote non sono state monetizzate. Quindi noi chiediamo che vengano stanziate dei fondi proprio per dare agli studenti questo loro diritto. Grazie.